Svolta sull'indagine, volta ad identificare i responsabili della bomba esplosa nella notte tra l'11 e il 12 maggio a Ponticelli. Un ordigno lanciato da un cavalcavia verso il rione dei Gasperi nell'ambito di scontri che stanno avvenendo nelle ultime settimane tra i clan presenti sul territorio. Le esplosioni erano state più di una, precisamente tre in quattro giorni. Quest'ultima, lanciata sulle auto di personaggi estranei alla dinamica criminosa, colpevoli solamente di aver lasciato la loro auto in sosta nel campo di battaglia dei clan coinvolti. L'ordigno aveva provocato danni considerevoli facendo scattare anche gli airbag delle vetture. Tra le automobili danneggiate, anche quella degli attentatori, che sono stati poi costritti ad allontanarsi dal luogo a piedi. Al termine delle indagini, i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno tratto in arresto e in esecuzione del decreto di fermo tre soggetti ritenuti contigui al clan De Luca Bossa Minichini, operante nel quartiere di Ponticelli, in quanto tutti ritenuti gravemente indiziati del reato di detenzione ed esplosione di ordigno, aggravati dalle finalità mafiose. Il provvedimento, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, arriva al culmine di una immediata e serrata attività di indagine dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della Compagnia di Napoli Poggio Reale, avviata subito dopo l'esplosione dell'ordigno in via Esopo, verificatosi lo scorso 11 maggio. I tre sono gravemente indiziati di aver lanciato dal cavalcavia la bomba che ha danneggiato le nove auto parcheggiate. L'onda d'urto, così come appurato dai carabinieri, avrebbe potuto provocare il decesso di tre eventuali persone presenti nel raggio di 10 metri circa dall'esplosione. I tre fermati saranno tradotti nel carcere di Secondigliano in attesa dell'udienza di Convalida.